È da 25 anni che mi occupo di CSR e di quella che oggi è definita sostenibilità. L'obiettivo è proprio quello di tradurla in un linguaggio comune, in un orientamento di scelte e comportamenti non solo delle imprese, ma anche delle istituzioni, delle organizzazioni della società civile, fino a singoli cittadini. La sostenibilità infatti, a contrario della CSR, non è solo una corporate social responsibility, ma è un vero proprio driver nuovo per un modello di sviluppo che possa essere chiamato tale, per un modello di sviluppo che garantisca progresso, quindi progredior, miglioramento alle condizioni di vita degli esseri umani presenti, ma anche delle future generazioni. È quindi fondamentale prima di tutto comprendere il significato di sostenibilità, da sostenere, prendersi cura, nutrire, mantenere nel tempo, proteggere, che cosa? La nostra casa comune. E quindi è fondamentale un'iniziativa come quella del Salone perché sempre di più tutti gli abitanti di questa casa comune dovranno essere consapevoli di come costruire un progresso che non produca danno, per citare uno dei principi della finanza sostenibile, il Dnsh. Quindi un modello che non produca danno a noi stessi, alla nostra salute, alla prosperità delle nostre comunità e naturalmente ai nostri figli, nipoti, le generazioni future e all'ambiente da cui tutti noi dipendiamo. Quindi fondamentale la formazione e la consapevolezza di cosa stiamo parlando e poi per noi di REFE da sempre rinchiudiamo nel metodo rendersi conto per rendere conto l'altra grande parte, cioè la convergenza strategica, la misurazione multidimensionale e una restituzione chiara e dotata di senso che attivi una comunicazione costruttiva tra le imprese, le istituzioni e i loro stakeholder in modo veramente da allearsi e costruire delle piste di bene comune dove benessere collettivo e benessere individuale siano di fatto le facce della stessa medaglia.